La sai la differenza tra torba e argilla? Un altro metodo per detossinare la pelle è l'utilizzo di impacchi. Si possono fare degli impacchi tramite la torba oppure tramite delle argille. La torba è un principio attivo cosmetico molto importante di derivazione vegetale, mentre l'argilla è di derivazione minerale. Quindi sono proprio due prodotti completamente diversi ma che entrambi vanno a lavorare sulla detossinazione del corpo. La torba contiene tantissimi acidi organici come anche lumina, l'acido umico, l'acido fulvico ed è molto utile anche per andare a riequilibrare il pH della pelle in quanto lei stessa ha un pH acido e aiuta proprio anche a ripristinare il film idrolipidico, oltre che a rendere la pelle più elastica e proprio morbida, vellutata. L'andiamo a vedere. È un impacco che possiamo andare a fare di sostanze proprio vegetali di colore scuro, quindi un colore tra il nero e il marrone scuro, molto morbido, potete vedere con il cucchiaio, e viene semplicemente applicato sulla pelle in strato sottile, dopodiché si chiude con un cartene, un foglio di plastica, di quelli che possono aderire bene e poi si copre la parte con una coperta in modo che la pelle rimanga calda, il corpo rimanga caldo e non si abbia freddo. Si lascia questo impacco per circa 20 minuti, dopodiché si fa una doccia o comunque si può asportare con un asciugamano bagnato e strizzato. È molto importante utilizzare la torba almeno un paio di volte alla settimana per un percorso di almeno tre settimane, perché è il tempo che il nostro corpo impiega per detossinarsi. La torba è utilissima sia sul viso, perché comunque ha un'azione anche elasticizzante, oltre che detossinante e depurativa, e per il corpo. Quindi è importante utilizzarla sull'addome, sulle gambe, sui glutei, ma anche sui piedi, perché anche nei piedi possiamo andare a lavorare molto bene per eliminare le tossine. Per quanto riguarda invece le argille, possiamo avere argille di vari colori. La più famosa, la più conosciuta è sicuramente l'argilla verde, che da bagnata assume un colore un pochettino più scuro, mentre da asciutta questo colore grigino-verdino. L'argilla verde è ricchissima di sali minerali, ha un'azione depurativa molto importante e anche un'azione antinfiammatoria, quindi è adatta anche quando ci sono delle infiammazioni, per esempio dolori all'addome, pancia gonfia, gambe gonfie, ma anche per esempio acne, quindi comunque brufoli, sfoghi proprio a livello cutaneo, aiuta proprio non solo a sfiammarli, ma aiuta proprio la pelle a rigenerarsi, quindi una volta che la pelle sia sfiammata, ha la possibilità di ripararsi molto meglio. Esistono anche degli altri colori di argille, che hanno delle proprietà simili a quella verde, ma un po' più specifiche per vari tipi di pelle, in particolar modo l'argilla rossa, che da asciutta sembra un po' più sull'arancio, va molto bene proprio anche come anti-pollution, quindi come prodotto contro l'inquinamento, ha un'azione non solo che va ad assorbire le impurità, ma proprio aiuta anche a ritrovare un colorito più bello, più sano e più luminoso, quindi molto adatta per esempio per trattamenti anti-inquinamento ed etossinanti per chi vive in città o comunque in zone particolarmente inquinate. Poi abbiamo l'argilla gialla, che è perfetta per le pelli più grasse, più oleose, quindi ha un'azione un pochino più forte e aiuta a riequilibrare le ghiandole sebacee. Ancora abbiamo per esempio l'argilla viola, questo color porpora molto bello, che va a lavorare sulla detossinazione per le pelli un pochino più delicate, quindi anche che possono avere capillari fragili o cuprose, per esempio nel caso del viso. E infine abbiamo l'argilla nera, che invece è un'argilla un po' più forte, che può essere utilizzata per esempio per il cuoio capelluto con forfora e cute molto grassa, quindi questo è un detossinante forte, quindi chiaramente non adatto a tutti i tipi di pelle e in particolar modo indicata proprio per il cuoio capelluto con forfora e anche per una pelle molto ricca di punti neri e di brufoli. Quindi vediamo come ci si può detossinare in modi diversi utilizzando prodotti più specifici per il tipo di pelle e anche per il tipo di risultato che vogliamo ottenere. Utilizzeremo la torba per un'azione detossinante profonda e che va a lavorare anche sull'elasticità della pelle, va a lavorare anche sul microcircolo ed è adatta per esempio anche a pelli più mature proprio perché va a lavorare anche sul collagene, sull'elastina aumentandone la produzione. Al contrario invece le argille che sono di origine minerale hanno un'azione più detossinante come assorbimento, quindi vanno ad assorbire le tossine e a seconda del colore possono essere indicate più per un tipo di pelle oppure per un'altra. Io spero di esservi stata utile, di avervi incuriosito e vi faccio vedere anche un prodotto che ho realizzato con la torba che è l'impacco detox che contiene torba pura di origine finlandese, delle riserve naturali a cui poi sono stati aggiunti altri principi attivi di tossinanti delle altre piante come per esempio il tarassaco, la betulla, l'equiseto, la lavanda che hanno comunque un'azione depurativa sull'organismo e quindi vanno ancora di più ad aiutare la torba nell'azione detossinante, rimineralizzante e anche elasticizzante della pelle. Ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto mettete un like e vi farò conoscere dei nuovi principi attivi. Ciao!